Da un post Facebook di Mario Adinolfi di venerdì 23 agosto 2024. Il figlio di Bob Kennedy abbandona la sua corsa in solitaria da indipendente per la presidenza americana ed appogge il ticket Trump Vaughn. Omonimo di suo padre Robert Kennedy Jr. ha detto nel suo endorsement che si schiera con Trump per le sue idee sulla libertà di parola, le armi all'Ucraina e la guerra che viene fatta ai nostri figli. A Harris e Waltz, portatori degli interessi di chi i figli li vuole abortire pure al nono mese di gravidanza e di chi vuole continuare ad ottenere commesse multimiliardarie pubbliche per far proseguire i conflitti in Europa e del Mediterraneo, restano le lobby e la retorica della gioia. Da oggi a sinistra impazziranno perché sarà un Kennedy a far perdere questa riedizione della gioiosa macchina da guerra. Ovviamente proveranno a delegittimarlo facendolo passare per un pazzo, ma la verità è che anche chi ha un approccio di sinistra serio non può votare gli affaristi guerra fondai che tirano i fili di Kamala Harris. Grazie a tutti. Grazie a tutti.